buonasera a tutti ben ritrovati dove siamo oggi beh siamo nel bellissimo showroom di suardi arredamenti e qui di fianco a me ormai conoscete benissimo stefano ciao ben ritrovato ciao ciao e buonasera a tutti sono stefano suardi appunto e sono titolare designer della suardi arredamenti case cose di casa suardi è una realtà presente nel settore dell'arredamento dal 1963 ad oggi quindi vantiamo ben 60 anni di storia e riteniamo di essere tra i principali punti di riferimento della distribuzione per l'arredamento di alta gamma e che dire Arianna intanto ho detto che siamo a Sizziano quindi intanto do delle indicazioni per gli amici a casa Sizziano si trova a metà strada tra Pavia e Milano a pochi chilometri dall'uscita dai principali caselli autostradali vicino alla suardi arredamenti c'è l'uscita delle autostrade di Melegnano e Binasco e non molto lontano l'uscita della tangenziale ovest ed est in prossimità del comune di opera in provincia di Milano naturalmente esattamente esattamente arrivati nel nostro showroom Sizziano troverete uno spazio espositivo di mille metri quadri beh dove qui oltre all'esposizione si trova lo storico laboratorio di Fallegnameria e il magazzino che permette di offrire un vero servizio di eccellenza distribuendo prodotti commercializzati direttamente da Sizziano in giro per tutto il mondo ci raccontavi prima insomma spedizioni ovunque spedizioni ovunque perché perché noi grazie al nostro sito che è un sito e-commerce che vi invito già a visitare che su ardi.com avete uno shop online 24 ore quindi quando volete nel giorno nella notte quando desiderate potete andare sul nostro sito al cliccare lo shop e lì troverete tutte le informazioni. Beh Stefano noi abbiamo parlato di Sizziano perché siamo qui ma in realtà so che nell'ottobre del 2022 esattamente siamo diventati ancora più interessanti con l'apertura del nuovo showroom in via Sant'Antonio 2 angolo via larga tra l'università statale di Milano e un nuovo punto diciamo espositivo di circa 100 metri quadri. È concepito come appartamento luxury ed è uno studio di progettazione e questo spazio vuole essere un punto di riferimento per i designer chiaramente per gli architetti e non solo ma per ovviamente tutti quelli che verranno lì a visitarci quindi per tutto il pubblico. Lo spazio è uno spazio come dicevi tu giustamente Ariane è uno spazio boutique perché è uno spazio piccino proprio come appartamento però questo proprio per presentare in uno spazio quasi verichiero quasi di casa tutto quello che è la collezione di un marchio perché questo appartamento principalmente presenta il marchio Cantori. Cantori è un produttore di arredi di alta gamma realizzati con i materiali più esclusivi quali il legno, le pietre, le pietre naturali ovviamente, i vetri decorati a mano e le cornici fatte su misura. Beh avete visto questo bellissimo filmato davvero emozionale come si può dire che trasmette veramente il bello del del marchio e tanti di quei prodotti che avete visto nel video li potete trovare ovviamente spazio Cantori suardi arredamenti a Milano. Esattamente esattamente così Arianna e poi completa la presentazione di questo showroom una selezione di prodotti per l'illuminazione a marchio Floss che è un'azienda leader di alta gamma. Quadro e Carpe Edition sono tra le aziende di riferimento nella produzione di tappeti preziosi. Lo Kerber è un brand specializzato nell'essenza di casa con delle profumazioni per l'ambiente casa veramente eccezionale. E poi abbiamo infine una proposta di arredamento con i marchi Flu e Zanotta. Qui Zanotta, Arianna... Beh qui mi viene subito a dire Stefano, la famosa poltrona sacco, lo sgabello a mezzadro ed il tavolo reale designato dall'architetto Mollino del... 1948, quindi oramai un'iconica presentazione di Zanotta per quanto riguarda questi prodotti all'interno dello showroom. Noi tra l'altro come vi dicevo precedentemente siamo rivenditori delle maggiori aziende di brand conosciute a livello nazionale e internazionale. Qui ad esempio parlando un attimino anche di prodotto vedete la nuova parete a boiserie del marchio Alf d'Affrè. Alf d'Affrè ha una tradizione secolare perché è oltre 100 anni di storia quasi nella lavorazione del legno. A oggi è punto di riferimento nella produzione di sistemi componibili altamente personalizzabili per la zona giorno e la zona notte. Appunto questo ad esempio la boiserie che si apre e di conseguenza sembra in realtà essere una parete di rivestimento e quindi non vado a occupare in oggetto quello che è lo spazio però vado a creare del nuovo spazio. Ecco questo e tante altre situazioni possiamo vederle insieme per realizzarle insieme. Abbiamo poi Antonio Lupi. Antonio Lupi è la più iconica tra le aziende per quanto riguarda la soluzione del bagno, degli arredi sempre di alta gamma a livello di rubinetteria, di box docci, di soffioni, di sanitari. Archetipo insieme a Cattelan, Cattelan Italia, sono due aziende straordinarie nel confezionare imbottiti su misura e a realizzare tutti i complementi d'arredo come tavoli, sede, sgabelli e quant'altro. Baxter è una delle ultime aziende inserite all'interno del nostro showroom. Baxter è un'azienda di altissima qualità nella produzione di divani in pelle riconosciuta in tutto il mondo. Arriviamo a questo punto a parlare di cucine, qua ci troviamo ad esempio in una delle prime cucine presentate a marchio Valdesign del gruppo Alf D'Affre, Alf D'Affre che appunto vi parlavo precedentemente. Qui ci troviamo in questa cucina dalle dimensioni molto molto generose con questa isola. Oltre al marchio Valdesign siamo rivenditori di Ernesto Meda che è sicuramente molto conosciuta come azienda sempre nel livello di alta gamma per quanto riguarda le cucine di design e poi ha conosciutissima Veneta Cucine. Parlando appunto delle cucine, tra l'altro a marchio Veneta Cucine, qua ci troviamo in una delle aree dell'esposizione di Sizziano dedicate a due cucine in particolare. Una è la Lange e l'altra è la Laik, le ultime due nate nel mondo Veneta Cucine. Non mi rimane che invitarvi presso la nostra sede centrale a Sizziano, oppure anche nella sede secondaria di Milano, per toccare con mano tutti i prodotti finora visionati durante questo filmato e vi informo tra l'altro che a partire dal mese di luglio e per tutto il mese di agosto, e questa è una cosa molto importante Arianna e cari amici telespettatori, perché per tutto appunto luglio ed agosto offriremo ai nostri clienti la possibilità di un pagamento personalizzato con interessi zero fino a 30 mesi, con un piccolo contributo spese. E io aggiungo anche che per questo vi invitiamo ad informarvi direttamente del punto Veneta e di leggere le condizioni contrattuali prima della sottiscrizione del contratto. Una promozione eccezionale su tutte le cucine a marchio Ernesto Meda, Veneta Cucine e Val Design. Quindi vi aspettiamo qui a Sizziano per scoprire i dettagli della promozione e in minima parte vi dirò che comunque possiamo avere l'opportunità di scontare fino a un massimo del 30% dal prezzo di listino, questi brand dei marchi delle cucine appunto dette e abbiamo anche la promozione con attacchi elettrici ed idraulici compresi nel prezzo della cucina. Bene, qua ci troviamo in un'altra area del negozio, sempre qua siamo a Sizziano in provincia di Pavia e con questa presentazione di cucina Sain disegnata dall'architetto Giuseppe Bavuso per Ernesto Meda, questa è proprio la rappresentazione della qualità massima percepita ma anche della qualità intrinseca del prodotto di Ernesto Meda. Io vi invito a visitare il nostro showroom, appunto qua le porte tra Milano e Pavia a Sizziano, per toccare con mano la qualità e la filosofia dell'innovazione e del design che si è voluta trasferire in questo prodotto, in questa cucina. Siamo esclusivi dei brand che racchiudono un importante gruppo come quello di Cassina, con i marchi capellini Cassina e Zanotta abbiamo la possibilità di offrirvi di quanto meglio ci sia per l'arredamento di casa vostra. Siamo rivenditori come vi dicevo di marchi come Floss, Illuminazione, Flu, azienda storica e unica nel campo del letto, tessile, contenitore. E poi un altro brand, Lagomobili, che non abbiamo ancora nominato. Assolutamente, è vero. Il brand è un'azienda che si caratterizza da una produzione di mobili in vetro, soprattutto per la casa, con una modularità infinita e per il suo design colorato e giovane piace soprattutto a un mercato di primo impianto. Le Mamobili, che qua vedete una parete alle nostre spalle, questo è uno storico marchio dell'Abrianza, qui vedete Selecta ed è una libreria per eccellenza perché possiamo andarla a comporre come vogliamo, sia in larghezza, in altezza che in profondità. Minotti, un'altra azienda che è doveroso ricordare, è un'azienda italiana riconosciuta a livello internazionale come eccellenza del Made in Italy nel settore dell'arredo contemporaneo, prodotti unici che durano in eterno. Sono destinati a durare esattamente nel tempo. Qui ci troviamo nell'area Rimadesio, brand dalla rigorosa selezione dei materiali e di ogni componente che costituiscono gli arredi. Le porte Rimadesio, i tavoli, le cabine armadio, i complementi e la zona giorno. Tutte le fasi del processo Rimadesio corrispondono a criteri di altissima qualità e unicità che hanno reso inconfondibile il designer e lo stile Rimadesio. Vi ricordo che siamo a Sizziano in uno showroom di mille metri quadri, siamo a metà strada tra Pavia e Milano. Ma ci potete trovare anche nel centro di Milano, in via Sant'Antonio, angolo via Larga, quindi centralissimi. Non ci resta che salutarvi, ringraziarvi di averci seguito fino a qua e quindi vi auguro una buona serata e vi aspetto a Sizziano o a Milano. Ciao Stefano, un saluto a tutti quanti voi, a presto, vi aspettiamo, ciao su Ardei Redamenti. Ciao. Ciao. Veneta Cucine, uno spazio aumentato per la tua casa e la tua vita.